Doveva essere la volta del riscatto per il PD trevigiano che alla segreteria regionale aveva chiesto di mettere in lista per le prossime politiche in posizioni favorevoli dei propri rappresentanti, puntando innanzitutto su Paolo Galeano, sindaco di Preganziol, e Maria Rosa Barazza, rieletta a Cappella Maggiore. E invece dall'alto sono stati calati nei collegi trevigiani leader nazionali come Enrico Letta e Piero Fassino, mentre l'unico posto in Parlamento assicurato andrà a Rachele Scarpa, 25 anni, ex sardina, proveniente dalla rete studenti, che nell'elenco dei 13 nomi sottoposti dal segretario provinciale Giovanni Zorzi a quello regionale Andrea Martella, neppure c'era. Nelle liste per Camera e Senato compaiono anche lo stesso Zorzi, il sindaco di Preganziol Paolo Galeano e l'ex sindaco di Maserata Anna Sozza, ma con chance ben diverse dalla scarpa, sponsorizzata con una lettera dal PD cittadino e dal suo segretario Giovanni Tonella. Il primo risultato è che il PD perde un rappresentante storico come Roberto Grigoletto. Da parte mia la scelta di rassegnare le dimissioni da tutti gli incarichi di partito, le ho già presentate al segretario provinciale e anche la decisione di passare al gruppo misto in consiglio comunale perché non mi sento più di rappresentare questo partito, del quale pur sono stato a suo tempo anche segretario provinciale, ma che sinceramente non riconosco più. E le dimissioni di Grigoletto potrebbero essere solo le prime. Il segretario provinciale Giovanni Zorzi si è preso alcuni giorni per riflettere e sia lui che Galeano potrebbero rinunciare alla candidatura. Su scarpa Grigoletto è tranchant. Io non saprei che cosa dire sulla scarpa, nel senso che non la conosco, non l'ho mai vista nel partito. Probabilmente sarebbe stato importante pensarci un attimo prima di accollarsi queste responsabilità perché insomma andare in Parlamento non è come andare alle giostre. Il segretario Martella difende la scelta. È una ragazza che sicuramente potrà portare valore aggiunto e quindi abbiamo voluto candidarla in questa posizione di primo piano proprio per favorire un ricambio e per dimostrare che il PD sarà impegnato su questi temi che riguardano i giorni. Io sono convinta che il partito provinciale, i sindaci, gli amministratori e tutte quelle persone che probabilmente non si sono sentite valorizzate all'interno della composizione delle liste mi potranno aiutare a colmare quelle che potrebbero essere delle mie eventuali lacune. Io penso che l'avversario sia a destra, quindi non riesco a vedere avversari nel mio partito e spero veramente che si lavorerà insieme per obiettivi comuni.